Anche quest'anno tra Mondolfo e Marotta ci sono circa 200 eventi. Presentata l'agenda eventi 2019 del comune di Mondolfo, 200 le iniziative all'interno tra eventi e manifestazioni per tutto l'arco della stagione estiva. Gli eventi sono tantissimi, sicuramente il più importante è il mondiale di beach soccer che c'era il 19, 20, 21 di luglio nella spiaggia nord di Marotta. Alisteremo uno stadio con mille posti seduti, sarà chiaramente un evento a ingresso gratuito come quasi tutti quelli che abbiamo messo in calendario quest'anno. E' l'evento clou di questa stagione del nostro comune. Ce ne sono tanti altri, ad esempio c'è il weekend dei bambini che quest'anno diventerà tre giorni, gli anni passati erano due giorni, quest'anno sarà tre giorni, diviso tra Marotta e Mondolfo. Il festival è il festival degli artisti di strada che siamo alla terza edizione, quest'anno il 12 e il 13 di luglio vedrà 14 artisti alternarsi nelle vie principali di Marotta. A seguire poi c'è sicuramente il musical, i due spettacoli del Moll Arena, uno è il musical Il Libro della Giungla e l'altro il concerto della rock band, la prima in Europa che farà un concerto dei Queen. Il progetto Marotta Mondolfo Village, contenitore di tutti gli eventi gratuiti per i cittadini e turisti, prevede anche una serie di iniziative culturali al suo interno. Il 5 di luglio l'inaugurazione di Sinestesia Festival, seconda edizione, festival di spessore internazionale. La sticella è stata alzata a livelli veramente, veramente alti attraverso mostre, performance, esibizioni musicali, quindi un calendario per questo festival veramente, veramente corposo. Sempre nel mese di luglio, ormai tradizione, il nostro cinema itinerante, altrove cinema nomade, che partirà dalle campagne del nostro santuario, della Madonna delle Grotte, quindi le campagne mondolfesi, attraversandole finendo poi al Mollo di Marotta per l'ultima proiezione, quindi quattro proiezioni, quattro luoghi diversi. 4 e 17 luglio, due date, la prima il 4 di luglio con Tiziana Ferrario, giornalista Rai, e il 17 luglio con Riccardo Iacona. L'agenda cartacea sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Comune oppure utilizzando l'applicazione sui dispositivi mobili.